Stai cercando di capire se vale la pena investire su Crowdestate? Utilizzo questa piattaforma da qualche mese e in questo video ti spiego cosa ne penso. Ciao, sono Luca Bucci e pubblico tutte le settimane su questo canale informazioni a proposito di investimenti. Investimenti che generino delle rendite. Ci sono tanti modi per investire i soldi e in questo canale ne affronteremo diversi. Quindi se sei interessato ad investire i tuoi capitali e farli fruttare, considera di iscriverti a questo canale. Crowdestate è una piattaforma essone di crowdlending immobiliare, esattamente come Estate Guru, alla quale però sono più affezionato. Investo anche su Crowdestate fondamentalmente per diversificare. Infatti al suo interno troviamo progetti provenienti da luoghi differenti, anche l'Italia. Crowdestate funziona come tutte le piattaforme di crowdlending immobiliare, ossia noi carichiamo i nostri soldi sulla piattaforma e tramite la piattaforma possiamo scegliere in quale progetti vogliamo investire. La piattaforma ci fornisce tutti i dati di questi progetti che noi possiamo analizzare, i business plan dei progetti, la situazione attuale in cui si trovano i progetti e anche un livello di rischio. Crowdestate è una piattaforma matura, infatti parlando di numeri è nata nel 2014. Ha raccolto ben 87 milioni di euro da 44 mila investitori, quindi possiamo dire che ha un track record abbastanza solido. Per quanto riguarda il rendimento la piattaforma dichiara nelle statistiche una media del 17%, se non sbaglio, che sinceramente non vedo. Nel mio caso è stato intorno al 10%, 10.3% se non sbaglio, o 10.5%, qualcosa del genere. Forse dal 2014 a oggi i rendimenti sono cambiati, quindi le statistiche si basano su dei dati che sono vecchi sostanzialmente. Non lo so, sinceramente sto semplicemente facendo delle ipotesi perché non riesco a spiegarmi questa cosa. Tra il 10% e il 17% c'è un bel margine in mezzo. Ritengo comunque che il 10.5% sia un rendimento più che ragionevole, dato il rischio. Il pagamento degli interessi viene stabilito di progetto in progetto. La maggior parte dei progetti paga gli interessi mensilmente o comunque durante il periodo di sviluppo. Alcuni dei progetti pagano sia capitale che interessi tutto alla fine, al termine del contratto. Cosa che sinceramente io preferisco evitare perché preferisco avere un flusso di cassa costante. Parliamo invece un attimo della disponibilità di progetti, cioè quanti progetti sono disponibili su questa piattaforma. Allora, sinceramente se dovessimo confrontarla ad Estate Guru non c'è venivamente paragone. Infatti su Crowdestate troviamo una statistica che indica che più o meno siamo intorno alla decina di progetti proposti ogni mese. Estate Guru non dichiara una statistica di questo tipo, ma per esperienza personale vi posso dire che probabilmente ne propone una decina ogni settimana. Quindi diciamo che la quantità di progetti è decisamente inferiore ad Estate Guru. Ragazzi mi spiace, io ho un debole per Estate Guru, mi piace tantissimo e Crowdestate quindi lo martello. Anche su Crowdestate però è disponibile un mercato secondario, quindi nel caso avessimo un'emergenza possiamo sempre vendere le nostre quote dei progetti in modo da liquidare prima del termine del contratto. Il mercato secondario potrebbe essere sfruttato anche per acquistare qualche occasione, soprattutto considerando che non vengono proposti tantissimi investimenti, quindi si potrebbe andare a fare la spesa sul mercato secondario. È disponibile anche una funzione Auto Invest che personalmente sconsiglio per il semplice fatto che alcuni progetti vengono divisi in round, quindi la funzione Auto Invest vi farebbe investire negli stessi progetti come se fossero diversi. Per quanto riguarda la sicurezza di investire su Crowdestate, come sempre vi ricordo che gli investimenti comportano sempre un rischio e di solito è abbastanza relativo al rendimento atteso. Detto ciò, qui il rischio è che il singolo progetto fallisca. Vi consiglio quindi di analizzare attentamente i progetti nella quale investite e soprattutto di non puntare mai tutto sullo stesso cavallo. Diversificate. Per sicurezza Crowdestate dichiara di aver separato la società con la quale raccogli soldi e la società con la quale opera. In questo modo, nel caso dovesse fallire Crowdestate, i nostri soldi sono tendenzialmente al sicuro, perché la società non può rivalersi sui soldi degli investitori per soddisfare i suoi debitori. Oltre a questo, ogni contratto, quindi ogni investimento che facciamo su un progetto, comporta un contratto tra noi e la società che ha proposto il progetto, quindi non tra noi e Crowdestate. Quindi anche qui, nel caso Crowdestate dovesse fallire o dovesse andar via, noi abbiamo un contratto diretto con la società che abbiamo deciso di finanziare. E questo è molto buono. Quello che ne penso di Crowdestate è che sia una piattaforma ben fatta, ha un buon potenziale, però c'è davvero una scarsità di progetti. Sicuramente un punto a favore è il fatto che vengono formati tantissimi dettagli sul singolo progetto, così che si possa verificare personalmente se sia valido o meno. I ritorni sono comunque buoni, non come State Guru, ma sono comunque buoni. E come vi dicevo prima, si può investire in località leggermente differenti da State Guru. Per questo motivo continuo a utilizzarla. Credo che quando Estate Guru crescerà esponenzialmente, cosa che credo accadrà presto, e si espanderà in tutta Europa, sinceramente non lo so, forse dovrebbe migliorare parecchio Crowdestate, perché io rimanga un suo investitore. Per quanto riguarda il cashback, Crowdestate non si promuove con una campagna di cashback. Quindi questa volta niente bonus. In descrizione però ti lascio alcuni link. Uno al tutorial, come sempre, per capire come utilizzare nel dettaglio Crowdestate. Uno al video dove ti mostro quanto ho guadagnato nell'ultimo mese con queste piattaforme. Un altro video dove invece ti spiego come si dichiarano i proventi derivanti da questo tipo di investimenti, quindi come dichiararli nel 7.30. E poi trovi tutti i link a tutte le recensioni che ho fatto sulle varie piattaforme nelle quali investo. Detto questo, mi raccomando, se sei interessato a questo genere di argomenti, se sei interessato a fare investimenti profittevoli, ricordati di iscriverti a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!